Due partite in una, fino al 38esimo, Carlin si incompleto controllo della partita, del gioco, del risultato, poi dopo il pareggio di Donna è subentrata un po' di ansia. No, magari direi proprio dal primo minuto siamo stati così oggi, anche dall'inizio, oltretutto siamo andati anche in vantaggio, ma la squadra non ha fatto quello che doveva fare. E bisogna cambiare un po', è successo oggi come la prima volta che non doveva succedere contro la prima in classifica e vediamo di riporre i rimedi. Per i singoli buona la prestazione da play basso di Cariello, ma anche battaglia si è dato molto da fare pur non disponendo di palloni di qualità nel finale. No, sì, sono due giocatori importanti, Cariello lo conosco, è un giocatore importante dove lo metti, la partita la fa sempre. Matteo ci vuole un po' di più, ma le qualità sono in discorso. La Voltrese ha messo in difficoltà la Carlin, soprattutto sulle seconde palle, arrivava sempre in anticipo. Cosa manca ancora a questa squadra per diventare dominatrice del campionato? No, non manca la cattiveria giusta, la voglia di vincere le partite, di chiuderle, la voglia di vincere i campionati. Siamo bravi, lo sappiamo, ma bisogna ripostare tutte le domeniche. Abbiamo visto poche volte cercare l'uno contro uno ai giocatori di maggior talento anche in superiorità numerica. È un problema di testa o è un'istruzione data a priori? No, no, no. Sapevamo benissimo da Voltrese quello che faceva, soprattutto sulla fase difensiva. Dovevamo lasciare determinati spazi liberi, però oggi non ce l'avamo proprio con la testa. Purtroppo poi quello che sia successo realmente, io non lo so perché ero qua in campo, e adesso approfondiremo, valuteremo, parleremo con anche i nostri ragazzi. Appurate le responsabilità, non è da escludere qualche provvedimento disciplinare interno? Beh, prima valutiamo a tutti gli effetti cosa è successo con cautela, perché sono cose comunque delicate ed è giusto che comunque, se qualcuno ovviamente ha commesso degli errori, sicuramente sarà allontanato dalla società. Però prima di dire, di vedere cosa fare, bisogna appurare quanto è accaduto. Una partita dei due volti che ha confermato che Carlins e Voltrese saranno protagonisti assoluti del campionato fino alla fine. A fasi alterne, una ha prevalso sull'altra. Forse la Voltrese è più cinica, la Carlins, che invece prima di uccidere la partita si è fatta infilare. Sì, diciamo che parlando di partita e di calcio, che è la cosa più bella, è stata una battaglia, è stata dura. A Voltrese sappiamo che dal punto di vista fisico e soprattutto se la mettono sotto il profilo della battaglia è chiaro che loro sono più avvantaggiati, soprattutto in un campo che non era in perfette condizioni per anche tutta l'acqua che è scesa. In un campo magari diverso, in sintetico, sicuramente magari i nostri giocatori più tecnici avrebbero magari disputato una partita migliore, però questo è il coseno del poi, quindi non abbiamo la controprova. Sta di fatto che la squadra comunque ha tenuto bene, hanno lottato anche i nostri, è stata una partita intensa, ritengo il pareggio comunque giusto. È stata una partita molto maschia, una partita molto viva, si è visto poco calcio a mio avviso da entrambe le parti e di conseguenza il risultato penso che vada bene a entrambe. Voltrese che dunque ha mostrato tutte le qualità della prima della classe, grande cinismo e grande cuore poi nel finale. Considerato che in campo avevamo due 97, un 96 e un 95, abbiamo fatto una partita comunque sia venendo qua, giocando contro dei signori giocatori, una signora squadra, è inevitabile che avremmo dovuto coprirci un po' di più e ripartire. L'abbiamo fatto bene, abbiamo concesso poco a Carlin Boys e siamo andati anche meritatamente in vantaggio. Poi io dalla panchina sinceramente i miei ragazzi mi dicono che sul secondo gol c'era fuori gioco, però alla fine 2-2 va bene, ce lo teniamo stretto perché comunque è guadagnato in casa di una grande squadra.